Ciao piccine, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Allora, cosa dire, oggi sono qui con un genere di video completamente diverso rispetto ai miei soliti Non avrei mai pensato di ritrovarmi a fare video smr, sono sincera Li ho sempre guardati, i su di me hanno sempre avuto un gran bello effetto, però non pensavo mai che mi sarei cimentata un giorno Eppure, eccomi qua Allora, se siete nuovi, benvenuti se mi avete conosciuto tramite questo video Ma se invece mi conoscevate già anche prima e siete tra virgolette abituati, fate parte della nicchia di persone che già guardano i miei video normali Non vi preoccupate, comunque i video normali non mancheranno Questa è solo una chicca aggiuntiva sul canale che potete apprezzare come no Sono al corrente che non a tutti piacciono questi video, quindi l'ho tenuto in considerazione assolutamente Però ho comunque deciso di provare a farlo, perché secondo me una fetta del mio pubblico potrebbe essere interessato Quindi nel caso appunto voi non lo foste, ci vediamo al prossimo video, non c'è nessun problema Allora, non sono abituata per niente a fare ASMR, quindi mi fa molto strano, sono sincera Quindi, siate clementi e nulla Ho preparato qua alcune cosine con cui fare dei trigger E nel frattempo pensavo, dai, di fare un whispering normale Per il momento comunque mi tenete in considerazione che il primo video ASMR della mia vita Quindi, non lo so cosa verrà fuori Spero in qualche modo che possa rilassarvi perlomeno Adesso farvi addormentare non lo so, però Giusto tenervi tranquilli di straiati dove siete seduti Magari un po' più sereni e spensierati, ecco, mettiamola così Comunque, qui con me ho un pennello Il pennello è stato il primo oggetto che ho provato Quando mi è arrivato il microfono appunto, che l'ho ordinato su Amazon Quando mi è arrivato, mi sono subito messa a provarlo Perché chiaramente ero curiosa E mi sono, ovviamente, messa a spennellare un pochino Per sentire come era il suono E infatti il pennello è un suono che si sente molto Ed è molto bello Anche se metto che personalmente a me non fa rilassare molto Quindi, proviamo però Che dire, comunque Dovrò prepararmi un po' una scaletta di argomenti Perché non sono abituata a parlare così a ruota libera Del piano, almeno Senza avere un tema principale Cosa possiamo parlare? Magari di questo microfono Il blu iedi Sicuramente tra i più economici Diciamo di quelli più basici Come microfono Però neanche proprio economico Nel senso Mi pare di averlo pagato 130 euro Su Amazon Che comunque non è pochissimo Ma come microfono ci può stare Insomma Secondo me È di una qualità Media Insomma Ok E devo dire Che è molto Molto sensibile Perché io Comprai Ormai Anni fa Un microfono Di quelli che Posiziono sulla fotocamera Per fare i video normali Ma insomma L'audio è buono Ma non è così sensibile Quindi quando ho provato questo Sono rimasta un attimo scioccata Allora Intanto qui ho preso un altro oggettino Per provare a sentire Che suono fa Il marchio è Marc Jacobs E non è un'ultica labbra Ma è un oggetto liquido Liquid eyeshadow Mi fa ridere perché Ogni tanto Pronuncio i nomi dei prodotti In inglese Cerca di dargli un po' più di Accento in inglese Insomma Una pronuncia Più corretta Perché Dovete sapere Se no Lo sapete già Che da qualche mese A questa parte Sto frequentando Un corso di inglese E pensi Di mia scelta Perché Vi spiego Come lingua Mi affascina molto Mi piace molto Fin dalle medie Perché Avevo un'insegnante Veramente Bravissima E Che me l'ha fatto amare Devo dire L'unica cosa Che dopo le superiori Mi sono ritrovata Sempre per gli insegnanti Incapace Quindi Non sono mai riuscita Ad impararlo Alla perfezione Insomma Come vorrei io A saperlo parlare Fluentemente Perciò Ho deciso Di investire Una buona somma Di denaro Perché Comunque Sono scuole Che costicchiano E E Di imparare Insomma Di carci Del tempo Anche perché Comunque porta via Del tempo E spero Tra qualche anno Spero tra qualche anno Di saper parlare L'inglese In modo molto tranquillo Senza farmi problemi E con una pronuncia Discretta Speriamo La scuola La scuola Che sto frequentando Si trova Qui In zona Dove abito io A Rimini E mi sembra Veramente tanto valida Adesso io sono Un po' di mesi Che lo sto frequentando Ed è davvero Fatta bene Secondo me Gli insegnanti Sono Super professionali Proviamo anche Un po' di tapping Un po' di tapping Con i polpastrelli Invece questo è il tapping Con le unghie Scusate Questa è una palette In abla Molto molto carina Che ho comprato L'anno scorso In questo periodo Se non mi ricordo male Quando erano un punto Appena uscite Effettivamente Hanno un po' di mouth Non so' di starebbero E' strano Mi si sente tutto Amplificato Con questo microfono Che strano dirlo Oppure Dovrei trovare Delle parole Triggerose Effettivamente Allora Leggiamo un po' di nomi Che vedo in giro Qui abbiamo Questo prodotto qua Da un po' di waited Che è una Che è una e la colorazione Grapevine 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 e un cos'altro? non lo saprei, vediamo qualcosa da nevecosmetics vediamo se metto le menta avanti, se cambia qualcosa nevecosmetics si, forse qualcosa cambia anche split liner non era male iniziate a commentare con delle parole interessanti che potrei citare in un video spero di non essere accorto di te, spero di riuscire ad accontentare dopo tutti però devo chiaramente ancora fare molta pratica con questo genere di video però dai, sono fiduciosa detto questo, ora vi lascio spero che vi siate rilassati se è così lasciatemi un mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate di questa new entry sul mio canale vi mando un grosso bacio alla prossima, ciao piccine